La cronaca di guerra e le storie di vita raccontate? Solo apparentemente sembrano lontane ed estranea. La realtà dice che ci riguardano in prima persona. Se non altro perché ad oggi sono quasi 50 i bambini e i ragazzi arrivati a Varese dall'Ucraina. Una decisione è stata dura per loro perché comunque devono lasciare tutto. Cioè genitori, marito, lavoro, tutto. Il basket Siamo Noi e Palla Canestro Varese presentano Tutto su di me è un mio nome, Alina. Sono stati in fila per passare la dogana due o tre giorni. Ciascuno dei 50 bambini e ragazzi destinatari della borsa di studio riceverà kit di abbigliamento sportivo, buono per l'acquisto di materiale scolastico e materiale informatico elettronico. Per noi la Palla Canestro Varese è anche questo. Simbolo di appartenenza e identità racconta di noi, della nostra storia, di chi siamo e di chi vogliamo essere. Basketball. 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 jiro. Grazie a tutti